Mi vedete, mi vedete? Mi hanno detto che mi devo la mettere così, in questa posizione. Io ho detto, ma perché mi devo la mettere così? E loro mi hanno detto, perché questa immagine deve rappresentare le magnifiche sorti e progressive. E io ho detto, ma che vuol dire, che vuol dire? Beh, dice, mi hanno detto che è stato Giacomo Leopardi, che nella poesia alla Ginestra ha parlato delle magnifiche sorti e progressive dell'umanità, e così loro mi danno un po' di soldi, perché io mi metto in questa posizione. Non è che mi piace tanto a me stare in questa posizione strana, ma loro mi hanno detto che così c'è la rappresentazione delle magnifiche sorti e progressive. Boh, beh, mi danno qualcosa, tanto per tirare avanti, capito? Vabbè, portiamo pazienza. Vabbè, saranno queste le magnifiche sorti e progressive. Vi saluto, vi saluto, eh!